Ciao a tutti ragazzi, questo è il primo video che facciamo per farvi vedere qualche esercizio da fare a casa. Di cosa avete bisogno? Qualche molletta, un pezzo di cartoncino. Cosa dobbiamo fare? Prendiamo il cartoncino e lo mettiamo su un tavolo comodo in casa. Dopodiché prendete una distanza dal cartoncino di circa un metro e mezzo, la famosa giusta misura per fare una affonda. Poi con le mollette dobbiamo semplicemente facendo un affondo attaccare la molletta al nostro cartoncino senza che capa. Distante e vado a chiappare. Chiaro? Molto semplice. Potete anche andare più lontano e provare con un passo, un affondo. Ok? O stare vicino e soltanto allungando il braccio. E' chiaro? E' molto semplice e divertente. Provatelo a farlo per 10-15 volte e cambiate poi la misura. Vi aspetto per il prossimo video.